Operai a lavoro nell'area del parco urbano Luciano Polverari, dopo tanta attesa, numerose interrogazioni in consiglio comunale e l'approvazione in giunta nel dicembre scorso del progetto esecutivo, ora si avvicina l'avvio del cantiere. Abbiamo fatto il punto con l'assessore del comune di Fano, Fabiola Tonelli. Abbiamo giudicato la ditta vincitrice dell'appalto, la GB Infrastrutture di Nepi, Viterbo. Parallelamente abbiamo anche affidato alla Multiservice di Padova il servizio di bonifica bellica di quest'area, quindi dove avverrà il lavoro, vediamo oggi stanno già lavorando con il metal detector per capire se ci saranno imprevisti oppure no. Noi speriamo di no perché se non ci sono imprevisti a fine aprile avremo la consegna dell'area pulita in modo da poter iniziare il cantiere verso metà maggio e per lavori si intende una ciclabile che partirà dal quartiere Vallato, dal centro commerciale, entrerà all'interno del parco urbano e si collegherà al parco giochi già realizzato vicino alla casa del parco. Di quanto è il finanziamento e che cosa rientra all'interno? I lavori di questa ciclabile sono circa 600 mila euro, volevo sottolineare questo perché abbiamo ottenuto, l'amministrazione ha ottenuto attraverso il bando di rigenerazione urbana 770 mila euro di finanziamento che comprende 400 mila euro per i lavori sulla ciclabile e 370 mila euro sulla casa del parco. Quindi contemporaneamente stiamo già in fase di progetto esecutivo, quindi poi inizieranno anche la gara d'appalto e i lavori per la ristrutturazione della casa del custode o casa del parco. Vediamo anche una montagnola di terra alle sue spalle, di che cosa si tratta, cosa verrà realizzato? Molti passando qui si chiedono che cos'è questo cumulo di terra qui sul parco. Verrà creata una collinetta che farà da filtro tra la strada e l'area verde in modo da movimentare un po' il terreno e per creare quest'area verde ovviamente sarà inerbita e saranno piantumate anche delle alberature per poter appunto ombreggiare quest'area che si trova all'interno della ciclabile tra il parco giochi e la casa del parco. Si iniziano quindi a vedere questi importantissimi lavori del progetto del parco urbano che è un progetto grande, molto importante non solo per i quartieri limitrofi ma anche per tutta la città perché finalmente Fano avrà il suo parco urbano, un luogo aperto, naturale dove poter passare il tempo libero.